Sì, a vedere la sorgente non si direbbe che poi diventi quello che diventa. E anche, io non l'avevo mai vista, però ovviamente ho visto delle foto di com'era anni fa ed effettivamente c'è una grossa differenza. La prima cosa che mi viene in mente da dire è triste. Allora, triste perché non siamo in giugno e siamo in febbraio. E vedere la montagna così a me dà l'idea di un uomo che invecchia e perde capelli e perde cose e la montagna perde la neve. Certo, solo che l'uomo li perde per la natura e la natura li perde per l'uomo. Direi che è un paesaggio veramente primaverile. Questo è bello per noi che veniamo qui a camminare, è carino. Certo non è bello per la montagna, non è bello perché manca l'acqua, non è bello per la siccità, non è bello per l'ambiente. Certo non è bello per l'acqua, non è bello per l'acqua, non è bello per l'acqua. Certo non è bello per l'acqua.